Presidente, benvenuti. La galleria di Casa Ivan Brucchi si veste e si abbellisce di una mostra che raccoglie più artisti. Ma sì, noi siamo orgogliosi di accogliere questa mostra di arte contemporanea che dialoga con il resto del nostro museo perché ormai è diventato veramente poliedrico ed è eccezionale vedere come è una mostra di questo tipo con quadri e opere di eccezionale valore. Di una particolare era, in pratica si parla del secondo dopoguerra dove l'Italia si sviluppava un senso di rinascita, di ricostruzione e questi artisti lo esprimono in questi quadri. Oggi in realtà Casa Brucchi diventa quasi una delle sedi di Gallerie d'Italia. Camminare nelle sale di Casa Brucchi oggi dà proprio quella sensazione, attraversare i saloni di Piazza della Scala a Milano. Le opere di proprietà di Intesa San Paolo che sono normalmente esposte nelle nostre sedi museali sono ad Arezzo prima di andare a Iesi. Artisti estremamente importanti, alcune opere sono iconiche rispetto alla nostra collezione del secondo novecento. Casa Brucchi è un caposaldo importante ad Arezzo, veramente io faccio i complimenti all'istituto e anche al suo curatore Carlo Sisi perché loro riescono sempre a portare in città queste pillole di arte che altrimenti ci sfuggirebbero. Chi viene a Casa Brucchi arriverà alla sede della mostra attraversando le sale storiche del collezionismo e dell'antiquariato. Quindi la peculiarità del percorso viene, come dire, arricchita all'ultimo piano dalle sale che ospitano la mostra sul novecento.